vedi? hai tutti i tuoi consensi, io ora sei più contenta? avete ragione, grazie dopo settimane e settimane senza vederli sui social, su il web, finalmente Greta Gossetti e Sergio Dottavi, i ex geffini della scorsa edizione del grande fratello, ci sono fatti vedere assieme, lontani ma vicini, in diretta, con tante coccole e baci mandati l'uno verso l'altro insomma, una coppia che ci stupisce sempre e fa parlare di loro tu erasi io? grazie ragazzi, insomma via mi piace, ci sarà la parte sua o no? grazie ragazzi, grazie non mi piace di dolci sì? sì grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti